Pellegrilli, fiduciario Slow Food e Val Vibrata Giulianova, la sfida del brodetto tra Piceni, un minuto per raccontarci il senso. Piceni erano un popolo che abitavano sia l'Abruzzo che le Marche e questa sera c'è stato il confronto tra due brodetti con due storie diverse, l'Abruzzo con Giulianova sotto il regno delle due Sicilie e San Benedetto del Tronto sotto il regno del Papato.